terza corsa premio i poschi la terrazza una reclamare per cavalli anziani ben 11 al via uno a reso le matto maurizio cheli due unico giashiba gennara mitrano tre zambana roberto vecchione quattro tempesta mark daniela cuglini 5 zibelino abbi max castaldo 6 adelef gennaro casolari in seconda fila 7 a row wf carin berri 8 atena del ronco edoardo lo cesano 9 artaterma jets al volatore valentino 10 sharif derun marco stefani 11 ursus tft francesco pettinari stacco della macchina veloce tempesta mark cerca di scavalcare reso le matto poi largo anche zibelino abi attacca max castaldo e passa al comando con zibelino abi su tempesta mark poi reso le matto davanti a unico giashiba quindi 200 metri svelti passati in 14 2 avanza a largo ursus tft che si mette sulle gambe potrebbe anche accodarsi quinto francesco pettinari intanto c'è un cambio al comando tempesta mark va a chiedere strada e passa dopo 400 metri passati in 28 8 quindi nuova battistrada tempesta max su zibelino abi che ha preferito correre di rimessa poi reso le matto in terza posizione unico giashiba che sposta a largo in anticipo su ursus tft 600 metri in a 44 e 7 passaggio davanti alle tribune con in vantaggio sempre la figlia di napoleon pedinata da zibelino abi poi c'è lo scatto in terza ruota di art a terme jet ma il treno esterno è formato da unico giashiba ursus tft poi anche zambana a largo frazioni qui davanti le tribune in 14 8 viene fuori un primo giro in 59 e mezzo sempre con in vantaggio tempesta mark poi zibelino abi terza la corda reso le matto chilometro in 1 14 7 retta di là con unico giashiba che cerca di perseverare poi vediamo all'esterno anche ursus tft che sposta a largo di dell'allievo di ciò c'è ma retta di là passati in 14 6 sempre salda al comando tempesta mark con zibelino abi seconda la corda sposta ora maurizio cheli con reso le matto e cerca di venire in avanti ultima curva passati in 15 2 retta d'arrivo si presenta in vantaggio tempesta marca attaccata all'interno dal numero 5 di zibelino abi ultimi metri zibelino abi a partita vinta viene a vincere anche nettamente su tempesta marca al terzo reso le matto mentre finisce probabilmente quarta a largo zambana 1 14 3 la media al chilometro 29 7 chiudere la vittoria di zibelino abi per il signor francesco d'assisi montagna il training di walter d'ambrogio la guida di max castaldo che viene a vincere molto bene dopo aver lasciato sfogare al comando tempesta bar che la battuta nettamente tempesta marca e sua volta è netta seconda mentre per il terzo il numero uno di reso le matto è il numero uno di reso le matto